Il tema è un consumo sostenibile, un consumo buono, pulito e giusto che cambi effettivamente l'economia a livello mondiale. Fair Trade è una fondazione internazionale con sede a Bonn in Germania di cui Fair Trade Italia è la componente italiana. Sostenibilità significa una produzione a basso impatto ambientale rispettando le regole in primis per i contadini che sono coinvolti che non devono utilizzare materiali nocivi per l'ambiente e per loro stessi. Fair Trade sorveglia che queste produzioni vengano effettuate rispettando anche quelle che sono le regole di salute per quanto riguarda anche l'accesso al mercato europeo e stimola le aziende che sono socialmente responsabili a partecipare a queste filiere per dare al consumatore del cibo migliore e ottenuto nel rispetto dell'ambiente e degli uomini che l'hanno prodotto. Si occupa di stabilire degli standard per le produzioni agricole dei paesi del sud del mondo in particolare per le filiere delle commodities, caffè, tec, cacao, zucchero, miele, fiori, banane e i produttori che aderiscono al circuito Fair Trade producono con un basso impatto ambientale e le aziende che partecipano pagano per questi prodotti un sovrapprezzo che va a sostenere sia il costo del lavoro delle persone che sono coinvolte sia progetti di utilità sociale in loco attraverso il meccanismo di un Fair Trade Premium. I consumatori e i cittadini possono contribuire a questi progetti anche semplicemente acquistando dei prodotti Fair Trade nel loro supermercato. Trovano il logo Fair Trade che identifica questi prodotti e per ogni prodotto c'è una storia che possono anche trovare sul nostro sito o attraverso le fonti di informazione o addirittura possono connettersi con noi e chiederci delle ulteriori informazioni.